Cipro Tour oltre il confine In occasione della mostra internazionale Cipro, Crocevia delle Civiltà, allestita nelle sale chiablese dei Musei Reali di Torino, alcune delle biblioteche civiche torinesi ospitano piccole sezioni off dell'esposizione. L'iniziativa ha lo scopo di diffondere in città le notizie principali sulla mostra e di proporre attività divulgative per creare stimoli nuovi e nuove occasioni di apprendimento e formazione. I percorsi allestiti nelle sedi delle biblioteche sono dedicati a specifiche tematiche. Esse rimandano alla mostra principale e creano anche nuovi approfondimenti e suggestioni. Cipro Tour si svolge dal 28 ottobre 2021 al 29 gennaio 2022, con il seguente programma. La Biblioteca Civica Centrale ospita la presentazione generale della mostra e un approfondimento sui fratelli Palma di Cesnola. Nella Biblioteca Civica Musicale della Corte, la mostra è dedicata alla musica, all'arte e il teatro nell'isola di Cipro. Nel Mausoleo della Bella Rosin, a ottobre e novembre, e poi nella Biblioteca Civica Villa Amoretti, a dicembre e gennaio, la mostra approfondisce il tema dei profumi prodotti a Cipro, per raccontare il ruolo della donna e l'importanza della dea afrodite nell'isola. Nella Biblioteca Civica Cesare Pavese, la mostra spiega il ruolo di Cipro come ponte del Mediterraneo, un punto di raccordo tra Oriente e Occidente. Nella Biblioteca Civica Primo Levi, la mostra racconta Cipro come crocevia di lingue e di culture. La Biblioteca Civica Don Milani ospita un ciclo di conferenze su Cipro, porto e ponte del Mediterraneo. Infine, il Bibliobus diffonde in tutta la città il programma di iniziative ed eventi. Perché dedicare una mostra a Cipro? Le collezioni archeologiche dei musei reali provenienti dall'isola di Cipro costituiscono un nucleo quasi unico nel panorama dei grandi musei europei. Il Museo di Antichità di Torino, ora compreso nei musei reali, conta più di mille reperti. La collezione nasce in parte dalle donazioni avvenute a partire dal 1847, sotto il console del Regno di Sardegna, Marcello Cerruti. La maggior parte dei reperti proviene dagli scavi condotti a partire dal 1870 da Luigi Palma di Cesnola, console americano sull'isola, ma torinese di nascita, e da suo fratello Alessandro. La raccolta del Museo di Antichità costituisce l'alter ego della collezione cipriota che è stata allestita dallo stesso Luigi Palma di Cesnola presso il Metropolitan Museum of Art di New York. Egli è stato il primo direttore del museo e operò dal 1879 fino alla sua morte, nel 1904. La collezione è paragonabile per importanza scientifica e varietà alla grande raccolta del Museo Egizio di Torino.